Ciao a tutti, bentornati a TVN del Ragno, eccoci anche oggi con un altro video di Wargamer Dragon Abbiamo appena finito di conquistare Pyongyang, adesso sarà una battaglia navale nel settore Mike A proposito faccio un saluto al mio amico Mike del TS, intanto che ci sono E niente, adesso ho iniziato anche la serie Binari Domain, che adesso vedrò se avrò già caricato un paio di video o meno E niente ragazzi, comunque tornando a Wargamer, ora vediamo un po' che aria abbiamo Abbiamo un anti-radar che va bene anche per le navi, perché sono un SEAD Abbiamo due elicotteri antinario da vedere cosa c'è in giro Quattro Koggo, delle Poang, otto Poang, insomma, le Dongai, quattro ECU e gli Airi Loro hanno anche l'elicotteri antinario, dei MIG, attenzione, però i nostri Airi dovrebbero essere migliori gli Hornet Sì, perché hanno comunque gli Amram, hanno dato i loro MIG, sì, sono migliori, o almeno, si spera Quattro Udalloi, sei Nanuska Ecco, le prove sono più gli Udalloi che le Nanuska, perché le Nanuska sparano a 6.000, anche se hanno una penetrazione, è un'esplosione assurda Bene Direi di andare... Bene, bene, bene Allora, loro avranno sicuramente della roba qui intorno Direi di prendere punti per un elicottero al momento Prendere due Kongo Una LCU Un intruder è un po' troppo poco Potrei prendere un Hornet e la tenere in giro sopra Perchè la strategia O Potremmo anche tipo girarli da qua Prendersi un po' bravo Sti cazzi Oppure andare qua Coperto un po' dalle isolette Perchè il vantaggio degli Udalloi è che sparano a 9.000 9.000 metri Se invece ci riusciamo a avvicinare con i cannoni delle Kongo I nostri cannoni sparano molto più lontano di loro Quindi loro, per esempio, non ci possono fare niente Hanno 8 missili, se non sbaglio Quindi più resistere a quegli 8 missili Ah, non possiamo neanche prendersi... Beh, direi di aspettare prenderci il coso loro Un aereo Insomma Potremmo venerci una poang Tenerci così un attimo sulla difesa No, dobbiamo difendersi Mettiamoci una poang Ok, partiamo Ok, partiamo Attenzione Andiamo a vedere il cotrino in una scoperta Siamo un pochino veloce Non ci vedrà il nostro Black Hawk Vediamo Potremmo prendere Bravo Allora, innanzitutto se loro ci vedono le nostre navi siamo tipo mega fottuti O santo cielo Siamo mega fottuti tipo adesso Perché stanno arrivando un sacchissimo di navi Prendiamo subito Questa è già Oh, da sicura Prendiamo il comune Questa è non è si sta allontanando brawler vai tu e niente però torna a casa attenzione lenta che culo normale attenzione arrivano i missili che culo 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 non ha precisione stimissi aspetta aspetta scuola capo la scuola l'elicottero esplode bene io mi sito non mi rimane in faccia contro l'udaloi truder forza colpita come vi dicevo si mette un attimo lento le nostre congo sparano molto più lontane con i cannoni a 6.000 loro invece sparano a 5 e sono le uniche navi della nato che sparano più lontano di quelle russe di fatto infatti la congo è un ottimo con la nave tutti gli altri li fanno abbastanza cagare c'è una musca che sta facendo una furba ma sta flottiglia la non dovrebbe poter sparare missili quando ci sono un portore ferito non dovrebbe poter sparare missili quando ci sono un portore ferito Un Hornet A tenermi su Sorveglianza aerea Tipo questi Attacca Maledizione Però Due sono morti Pongo Molto ferita Va bene abbiamo perso Un Hornet Molto Purtroppo ma Va bene Va bene ragazzi Why does it always have to be me Sì 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 Slap Sì Sì Siamo Sì andiamo qua l'incruder nienta, attenzione attenzione alla congorischia, congorischia, congorischia ce l'ha fatta ora continuiamo a perdere MIG attenzione all'intruder hanno sparato i nostri missili preso, preso morta grande abbiamo distrutto l'altra nave qui siccome non voglio perdere questa congo la metto tipo qua c'è una bella nanosca chiamiamo un hornet mi ricordo che sono morti andiamo qua a vedere ah è già morto anche quella andiamo a vedere in giro se troviamo cos'altro un po' veloce un po' veloce faccio vedere un attimo gli anti radar come funziona ragazzi ok come avete visto però funzionano mi domando se no sicuramente è meglio affrontarli qua se no sicuramente 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 non ci sono si no sicuramente 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 dovrebbe mirare Sì, è vero. Allora, sono deciso se lanciare l'intrudere o meno perché sono pericolose Un po' adesso arriva anche Facciamo la nusca, forza Cazzo non è nusca Non li vedo girare Un hornet volare in giro Un po' adesso 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 Siamo già Un po' adesso Un po' adesso Un po' adesso cd ok attività Niente, oh, non vuole andare giù Ce l'abbiamo fatta ragazzi E' intrudere addirittura in lit E' diventato grande Vittoria totale Sono rimasti due da noi ma Grandissimi No, fuggono Questi cazzi Quattro daloi, due sovremeni, tarantul C'è poi da gnusca Attenzione Cosa volete? Deck E' arma E' arma E' arma E' arma Ma ci arriviamo tutto ragazzi Eh però non sono qua di armare Sti cazzi Subito Qui c'era un airport Mi sembra Ma qualcosa di Carlicini esi che sono Questo è tosto Oltretutto Un caro di condizione Beh comunque ragazzi Ci vediamo nella prossima puntata La tavana e il ragno è tutto Poi vedremo cosa fare Nella prossima Ciao Ciao